è bellissima è bellissima tutta italia è molto bella io l'ho girata quasi tutta ormai però questa è bellissima è una cosa veramente mamma mia quanta luce che sta facendo sta lampada dicevo sembro tutto fosforescente guarda che roba si capisce aspetta che spegne vediamo cosa succede spegni ok si va bene lo stesso si dai mi si vede allora ero rimasto assi la toscana bellissima la toscana caspita non devo dire che la toscana caspita dovete indovinarlo da soli come si fa a dire che è bellissima è semplice basta vedere quanti turisti vanno vedere la toscana soprattutto dall'estero tanti tantissimi tantissimi inglesi soprattutto gli inglesi sono innamorati della toscana pensate che un primo ministro addirittura c'è un capo del governo alla casetta in toscana andava sempre in vacanze in toscana adesso non so se ci va ancora perché non è più primo ministro quindi nessuno sa più dove va insomma sono fattaci suoi comunque fatto sta che la toscana è piena di turisti andiate pure a pagina 44 del vostro libretto l'identikit della regione sto leggendo la parte in verde il nome toscana deriva da tuscia termine latino col quale i romani indichiavano eccetera 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 tale territorio in origine abitato dagli elefanti equado regni e se vabbè già fatto sto giochino gli etruschi ok lo stemma tanti saluti è un regione abbastanza ricca lo si vede nel pil ambiente fisico allora il territorio si caratterizza per la presenza di numerose regioni storiche o geografiche che identificano le varie aree della toscana che bella presentazione le aree montuose collinari sottolineate collinari perché la cosa la caratteristica della toscana sono le colline è un territorio collinoso è bello perché mosso ci sono c'è questo panorama che è veramente incredibile ok colline dolci e non sono e sono abbastanza distese non è che come nelle marche che una attaccata all'altra o in altre regioni qui sono proprio è un territorio collinoso ma disteso ok dolce ecco si può dire così colline dolci e lo vedete nella foto sotto nella gigantografia una volta tanto ha un senso questa foto ok vi dà l'idea appunto delle colline dunque allora territori da sapere territori da sapere vabbè tanti la valle del chianti la valle del chianti e poi c'è la versilia e la maremma queste tre cose sottolineate valle del chianti versilia maremma il fiume più importante è l'arno aggiungete asì la matita la matita la matita è l'arno ok straripato nel 1966 ok segnato straripato nel 66 attraversa firenze tutto la val d'arno il val d'arno bocco e sfocia nell'area di pisa quindi mi raccomando ok passa da firenze e pisa due città fondamentali della storia italiana allora avete la cartina davanti al naso ok dovreste sapere già che cosa fare perché avete visto nella come cavolo si chiama nella lezione ok questa volta sono stati generosi questi signori e vi hanno segnato il passo della cisa e il passo della futa sul confine con l'emile romagna qui in alto a sinistra il passo della cisa e qui al centro il passo della futa e lì vicino c'è il monte falterona da cui nasce il fiume arno e il monte fumaiolo da cui nasce il fiume tevere infatti subito dopo c'è scritto tevere ok allora i capoluoghi di provincia li dovete sapere carrara e massa lucca pistoia firenze pisa appunto livorno qui sul mare e poi abbiamo grosseto qua al centro siena arezzo non credo a sì poi scusate vicino a firenze trovate prato e pistoia tutte città molto belle a me manca soltanto grosseto tutte le altre le ho viste rivorno giusto di sfuggita ma non c'è una mazza rivorno che lo sappia allora poi sempre da ricordare il fiume arno va bene avete capito qui sulla costa abbiamo la versilia famosa per il turismo balneare infatti c'è forte dei marmi via reggio dove c'è anche il carnevale ok via reggio e forte dei marmi per chi ha i soldi di solito e poi poi più in giù qua abbiamo la maremma qua sotto la maremma che finisce anche in lazio con la a in lazio infine da ricordare l'isola d'elba l'isola d'elba da ricordare assolutamente il monte argentario qua con la laguna di orbetello non ortobello come una mia scritta ma orbetello il monte amiata che è qua su e il fiume ombrone qui vicino a grosseto ecco dovrei aver detto oh no c'è il chianti il chianti vedete qua tra praticamente siena arezzo firenze in questo triangolo abbiamo il chianti famoso per il vino il chianti dovevano in tutto il mondo allora avete girato pagina la popolazione si concentra qua e si concentra la e chi se ne frega allora quello che ci interessa negli ultimi anni sono la quarta riga quinta si è diffuso il fenomeno per cui molti inglesi e statunitensi affascinati dalle aree più suggestive vi hanno acquistato ville casali la regione del chianti ok quinta riga sottolineare capoluogo Firenze centro economico con musei chiese palazzi capolavori di tutti i tempi tra i questi c'è la pinacoteca dovete scriverlo perché qui non c'è scritto galleria degli uffizi cioè la galleria degli uffizi è una pinacoteca cos'è una pinacoteca profe cos'è una pinacoteca è una pinacoteca sapete una paninoteca e dove si custodiscono e si mancano i panini ok benissimo la discoteca e dove si custodiscono e si mancano i dischi la biblioteca e dove si custodiscono e si mangiano i libri mentre invece la pinacoteca è il posto dove si custodiscono e si mangiano i quadri pinacs in greco pinacos il genitivo allora galleria degli uffizi poi c'è santa maria del fiore c'è santa maria novella c'è la basilica di santa croce e sotto avete infatti una gigantografia di firenze sì vabbè bella ecco sicuramente ecco e poi palazzo vecchio ponte vecchio non hanno segnato qua non è possibile sì no no non hanno messo c'è palazzo vecchio ma non hanno messo ponte vecchio che è famosissimo famoserrimo ponte vecchio segnare segnare ponte vecchio bravo i capologhi di provincia sono prato zona di sviluppo della produzione tessile e poi siccome hanno c'è hanno un mucchio di spazio hanno usato una tonnellata lo dice anche dopo ok abbigliamento e tessile prato soprattutto la famiglia di origine cinese allora ultimamente sì poi livorno 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 qua non dice più niente di livorno quindi prendete la matita e aggiungete quindi fate un asterisco una freccia magari tanto sotto avete un sacco di spazio sotto è sotto e scrivete appunto porto di cioè porto importante per lo smistamento dei container vi ho spiegato cos'è un container giusto e e sede della accademia per gli ufficiali della marina militare bravo poi c'è arezzo molto bella etrusca ok anche le firenze di origine etrusca segna no 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 firenze non sto dicendo arezzo 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 etrusca segnare etrusca etrusca poi abbiamo pisa ok famosa in tutto in tutto il mondo in tutto in tutto in tutto il mondo famosa per la celebre torre pendente ce l'avete qui a fianco nella foto a fianco qua questa foto è famosa in tutto il mondo cioè è una cosa unica non esiste un'altra cosa del genere in tutto il pianeta chiaro in tutto il pianeta t'ho detto in tutto il pianeta credici ok e ci vanno un sacco di persone vederla sta torre di pisa e io l'ho vista tre volte nella mia vita va bene ci sono salito due allora è importante da ricordare la torre di pisa chiaro c'è non è una cosa tanto per ma si è chiaro è come dimenticare dove si abita fondamentalmente allora torre di pisa vi ho spiegato perché è inclinato è un campanario campanile scusate pistoia bella anche pistoia sì sì lucca lucca famosa per la sua arena scrivete scrivete e le torri di cui una con gli alberi sopra e poi no le mura cinquecentesche le mura cinquecentesche di lucca sono sì sono quasi complete ma ce le trovi anche a palmanova in provincia di udin le trovi in altre città d'italia ecco quindi non è che lucca è particolare perché c'ha le mura cinquecentesche lucca è particolare ti stavo dicendo perché c'è ci sono le torri di cui una con gli alberi sopra ad esempio e poi per la famosa piazza che dà l'idea dell'arena romana che è stata ovviamente pian piano eliminata cancellata rimasto praticamente due sassi della vecchia arena e poi grosseto non so niente di grosseto massa carrara bellina bellina sì però un po' rovinata diciamo siena o siena la città del palio sottolineare anche questa roba qua la saluti lo sta all'universo mondo ok allora c'è il palio dei cavalli ok sono cavalli vi ricordate che corrono nella piazza con spasta di sabbia eccoci la città del palio dei come si dice dei cavalli ecco non degli asini non degli asini palio degli asini lo potremmo fare da un'altra parte ok e forse noi sappiamo dove si potrebbe fare il palio degli asini o dei somarelli ma come io vi ho dedicato la torre la torre di bologna la torre degli asinelli me la siete dimenticata la torre degli asinelli perché com'è possibile io dico allora la città del palio bene e abbiamo finito così no 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 ci sono altre città che non sono capoluoghi di provincia quindi non sono capoluoghi di provincia ma che sono interessanti come san gimignano scrivete famosa per le sue numerosi torri medievali bella san gimignano ci sono stato e volterra famosa per i suoi reperti etruschi fatto girate pagine la valle del chiantico bella foto vi faccio capire che ci sono le viti per il vino la valle del chianti tra firenze e siena è una delle numerose regioni bla 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 colline dolci e fitti vigneti sottolineare in quattro colori valle del chianti valle del chianti valle del chianti allora risorse attività economiche un settore importante è quello agricolo tecnologicamente avanzato alle culture alle momenti tradizionali e tipici le razze bovine chianina e mare mana allora dalla chianina si ricava la bistecca alla fiorentina e lo state scrivendo quel malloppi di carne così bistecca alla fiorentina e dove c'è maremma maremma ok la maremma è una come dire una zona selvaggia scrivete selvaggia praticamente ancora selvaggia dove praticamente i bovini sono allo stato brado cioè sono liberi praticamente e governati dai butteri scrivete butteri bovini liberi allo stato brano brado poi abbiamo l'olio d'oliva prodotti vinicoli noti a livello internazionale come il brunello di montalcino il chianti avete sottolineato vi ho detto di sottolineare il chianti allora poi il morellino di scassano lo sapevo e poi non l'hanno messo il tabacco e i girasoli tabacco gira soli come vedete niente mais non c'è il mais perché non c'è il mais caldo c'è fa caldo il clima mediterraneo perché non c'è il mais esatto non c'è sufficiente acqua cioè se vuoi a farti il campicello di mais sia anche in ubria c'è il mais ma non è grande produzione di mais casomai il grano che richiede il frumento richiede meno acqua allora vabbè attività industriali bla 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 lo dice dopo io non capisco perché qua ti mette tre righe su sta roba qui chi se ne frega poi te le rimette di là settore secondario la ricchezza di risorse naturali come il marmo marmo ok sottolineate bene la parola marmo e aggiungete di carrara esportato in tutto il mondo alpi apuane e poi abbiamo i soffioni boraciferi dell'arderello alimentano le centrali geotermiche per la produzione di energia elettrica sottolineate soffioni boraciferi e centrali geotermiche in pratica sono degli sbuffi di vapore molto caldo che mettono in funzione le famose c'è scaldano l'acqua che diventa vapore se mette in moto la famosa turbina che mette in moto il generatore allora guardiamo le foto un enorme foto per farvi capire che la gente va al mare se l'avessero fatta di un che so io un quarto non si sarebbe capito no che andavano al mare comunque vabbè spiaggia di viareggio storica rinomata località balneare della versilia allora voi dovete sottolineare due cose tre cose due viareggio versilia e ne aggiungete una terza famosa per il suo carnevale in cui si prendono in giro i politici di solito e poi il palio di siena un'altra bella foto vedete con gli sbandieratori la contrada dell'oca quella del drago si vedono le bandiere no le bandiere bandiere guardate quelle bandiere ci sono bandiere bandiere gonfaloni bandiere allora palio di siena che dal 200 mette in competizione le contrarie della città i sestieri se non sbaglio è una delle numerose manifestazioni folcloristiche richiamano migliaia di turisti ed è un sacco di gente che c'è dietro che sta a guardare anche io vorrei andare a vederlo però non ho mai avuto occasione sic transit gloria mondi allora industrie meccaniche industrie meccaniche aggiungete bici tommasini e poi le ottiche galileo in onore di galileo galilei mamma mia mi sono dedicato i personaggi più importanti adesso finiamo qua poi torniamo indietro poi industrie metallurgiche chimiche siderurgiche abbigliamento a prato e poi abbiamo un motociclistico come gilera che non c'è scritto lo scrivete voi gilera la piaggio che fa gli scooter tipo le vecchie vespe non so se avete presente e ma anche aerei la piaggio produce anche e poi l'attività più proficua è il turismo un sacco di gente va a vedere tutta sta roba qua anche le terme certo ci sono anche le terme vedete balneare versilia isola d'elba vallate interne insomma artistico e storico perché a firenze a firenze firenze piena così di roba artistica perché è uno dei punti più importanti del rinascimento italiano e lo vedremo lo vedremo lo vedrete in seconda allora che cosa mi sa tornate indietro perché pagina 46 avete un sacco di spazio mettete famosi personaggi toscani due punti dante alighieri che avete sulla moneta da 2 euro che scrisse la divina commedia e altre cosette interessanti poi leonardo da vinci famoso scienziato del 1400 scienziato e artista artista più che scienziato sì e di leonardo avete l'uomo vitruviano sulla moneta da un euro vi ricordo che leonardo ha dipinto anche il cenacolo l'ultima cena che si trova a milano e poi era un genio perché ha progettato un sacco di roba eccetera anche quella la vedremo l'anno la vedremo la vedrete l'anno prossimo e seconda poi abbiamo galileo galilei michelangelo michelangelo buonarroti e galileo galilei michelangelo buonarroti anche lui famosissimo autore pittore scultore architetto e galileo galilei scienziato del 1600 che ha inventato il metodo scientifico ha introdotto non inventato termine inventato ha introdotto il metodo scientifico che è alla base di tutte le scienze tutta la scienza la tecnologia odierna senza il pensiero di galilei sì prima o poi ci saremmo arrivati però la storia sarebbe diversa eccoci credo che abbiamo finito qui finito qui va bene sì dai ok prossima puntata le marche